Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot.chiocciolaocchiopavese.it che riparti con noi, che riparti con occhio pavese. Fabio Quilini buongiorno, siamo ormai al vuoto. Domenica e Vogheresi andranno alle urne. Il simbolo del suo movimento civico Italia del rispetto sappiamo che sarà a fianco quello del PD e della lista civica Ghazi sulla scheda elettorale. Viene da chiedersi se questo non sia un pochino perdere di quell'indipendenza di cui tanto ha parlato in questi anni, insomma dal 2015 quando ci furono le prime elezioni. Buongiorno, no assolutamente. Voglio fare una chiarezza e che questa chiarezza possa arrivare con un messaggio per essere compreso dalle persone. Nel 2015 noi avevamo appoggiato il candidato sindaco Barbieri e l'avevamo appoggiato dietro un punto del programma che era la realizzazione del cimitero degli animali. Ma avevamo mantenuto una nostra autonomia. Oggi abbiamo appoggiato il candidato sindaco Pierezio Ghazi sul punto programmatico delle politiche sociali, ma noi manteniamo la nostra autonomia. E cos'è che voglio trasmettere in questo messaggio? Che appoggiando Barbieri e appoggiando Ghazi è come se io avessi appoggiato due elementi uguali che automaticamente si vanno a annullare. Quindi, cosa voglio trasmettere? Voglio trasmettere quello che è il primo comma del movimento, dove dice che il movimento è un movimento apartitico che collabora con le idee per il bene della città. Quindi noi saremo sempre un movimento autonomo che al momento delle elezioni vallettoremo il programma elettorale e lì prenderemo una posizione. Perché riteniamo che prendere una posizione per dare alla città di Voghera un sindaco sia una responsabilità politica. Lei non pensa che sottolineare e ribadire questo concetto a pochi giorni dal voto possa infastidire il candidato che le supporta, cioè Pierezzo Ghazi? Mi auguro di no, perché lui sa che ho sempre sostenuto con forza questa mia autonomia, che è la mia idea. È la mia idea che sono partito nel 2013 e io non sono una persona che vuole poltrone. Se mi si dovesse essere offerto un assessorato o qualcosa, io la rifiuto perché per me il mio principio e il mio obiettivo è costruire la mia idea che è rappresentata dall'Italia del rispetto. E il candidato, Pierezzo Ghazi, sa che in questo momento io ho condiviso con lui il programma sulle politiche sociali. Per concludere, a pochi giorni dal voto non posso che chiederle un bilancio su questa campagna elettorale. Che dia si è fatto sul comportamento dei due candidati e sul risultato che ha avuto questa campagna elettorale anche sui cittadini? Se devo essere sincero, io sono una persona molto moderata e molto pacata. In questo periodo sul web sono uscite molte satire nei miei confronti dell'uomo gandiano. Mi permetto di dire che è stata una campagna elettorale, per il mio modo di vedere, un po' troppo animata e un po' troppo esagitata. Questa cosa mi tocca un pochettino. Quindi questo animo gandiano esiste? Questo animo gandiano è il mio animo che esiste, che va a sbattere contro questi atteggiamenti un po' così esagerati. Grazie. Grazie a voi.